ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica riders of the lost film questa volta andiamo molto indietro andiamo al 1946 per parlare di un film in bianco e nero dal titolo desiderio film codiretto da roberto rossilini insieme a marcello pagliaro ne parlo con grande piacere con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo ciao giulio buona giornata a tutti un bel film questo che appartiene alla storia anche se minore del cinema italiano sì un mi sento anche di dire un film un po sottovalutato un film che del benché del 46 tratta di argomenti molto spinosi molto delicati è un film appunto codiretto da marcello pagliere roberto rossellini che ebbe una produzione altrettanto travagliate e dopo l'uscita ci furono anche altri problemi ma di cosa parla desiderio parla della storia di paola una donna che si trasferisce dal proprio paese di campagna paese natio in in città per cercare fortuna inizia a lavorare per una sartoria ma il lavoro diciamo non non le piace non è contenta dopo un anno che lavora in questa sartoria lascia questo lavoro e cerca altre fortune queste fortune non le trova e quindi è costretta a prostituirsi cambiando proprio la vita ma insomma una prostituta si capisce nel film di anche alto borgo quindi insomma guadagna bene un giorno tornando dal turno torna a casa e una terribile notizia la sconvolge perché una sua vicina di casa una ragazza più o meno della sua stessa età si è suicidata questa questo dramma la colpisce la colpisce molto tant'è che decide di tornare al suo paese natio nel nell'assistere al questo al suicidio paola però conosce giovanni un uomo di bella bella presenza o con un lavoro stabile che si innamora veramente di paola e questo sentimento in parte viene ricambiato anche se paola resta sempre un po' guardinga perché non vuole svelare in realtà qual è la sua professione allora un po' per scappare da questa situazione un po' delicata decide di tornare al suo paese natio proprio qualche giorno dopo il matrimonio della sorella pensa di fare una cosa gradita alla sua famiglia ma così non è il padre non accoglie paola a braccia aperte perché si era andata via due anni prima per per cercare fortuna il padre era contrario ma non c'è solo questo perché c'è chi nel paese sa della vera professione di paola inizieranno qua una serie di sottotrame anche ricatti per cui quella che dove essere una piacevole riconciliazione sarà l'inizio di un dramma dal finale veramente triste film articolato questo come dicevi che ha avuto una genesi un po' così di turbolenta tant'è che cambiò anche il titolo un paio di volte perché il film ricordiamolo è stato iniziato nel 1943 da roberto rossellini poi venne e tra l'altro all'epoca quando lo iniziò rossellini il titolo era scalomerci doveva essere ambientato in mezzo ai ferrovieri poi cambiarono un po' tutto quanto l'ambientazione il film venne interrotto venne interrotto per l'otto settembre e venne ripreso invece due anni più tardi come dicevi tu da marcello pagliero che prese quel materiale già girato da rossellini cambiò ancora il titolo perché doveva essere rinuncia e cambiò poi un tutta l'ambientazione come dicevo e poi uscì questo questo film che invece è diventato appunto desiderio tra l'altro tra i tanti cambiamenti che sono avvenuti vi è anche quello dell'attrice perché in realtà l'attrice pensata e scritturata prima da rossellini era oretta fiume e poi venne rimpiazzata invece da quella che è la protagonista ovvero ellie parvo si è un film particolare che secondo me meritava anche diciamo così un po più di attenzione perché ripeto siamo nel nel 46 l'italia uscita dalla della seconda guerra mondiale sappiamo come ma il film tratta di argomenti che possono essere di assoluta attualità cioè la prostituzione le diciamo le relazioni familiari il cercare una nuova una nuova vita ma come capita spesso il passato sempre torna a galla quindi è un film molto conciso perché un film che dura neanche 80 minuti sono 78 77 quindi stiamo parlando di un film di neanche un'ora e venti dove c'è tantissima ci sono tantissimi argomenti tant'è che il film quando uscì nel 46 venne accolto un po così in maniera molto fredda in realtà ebbe anche una censura da parte della chiesa quindi non l'ultima l'ultima arrivata e fu molto censurato ci furono diverse scene anche tagliate ebbe una distribuzione complicata e limitata per cui è un film che quando parli di di rossellini anche se come hai detto giustamente giustamente tu pierpaolo ecco diretto da da rossellini insomma non viene citato però il punto di partenza è stato rossellini perché lui quando vide vide ossessione di lucchino visconti rimase totalmente sconvolto e volle fare una cosa che un film che si si avvicinasse un po a quella a quel a quel film e sì ma è appunto questo cioè per tanto per tanto tempo per tanti anni la critica così giudicò questa questo desiderio come una una coppia minore di di ossessione perché il confronto con il capolavoro di di sconti era veramente improponibile però è un film che ha come dicevi giustamente tanti 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 spunti e poi l'ambientazione la fotografia la la narrazione perché è stato scritto anche da diversi da diversi sceneggiatori che hanno partecipato direttamente indirettamente tra i quali ricordiamo giuseppe de santis quindi c'è un regista dell'epoca e ed è comunque uno degli esempi di cinema neorealista anche se qua insomma la parte melodrammatica ha forse la preponderanza in parte solo nella 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 parte finale a a più peso un'altra cosa interessante da dire questo in questo film corto ma veramente intenso è il un elemento un argomento molto delicato che è la viscita del dell'essere umano maschile perché il film non parla solo di prostituzione ma parla anche di ricatti e è qua in particolar modo in un personaggio che è riccardo che è conscio e sa del passato di paola ecco viene fuori tutto quanto l'uomo può essere meschino e viscido ci sono due o tre scene veramente crude veramente che io sono rimasto particolarmente colpito da 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 questo aspetto e ti viene sbattuto così in faccia con una durezza e mi sono pensato caspita questo è un film del 1946 e si è permesso giustamente di fare queste cose e se pensi al giorno d'oggi invece il politica dei corret che regna sovrano da da riflettere sì è film che dicevi giustamente è stato anche osteggiato dalla chiesa censurato anche perché poi ricordiamo è uno dei pochi film italiani in cui vi è all'epoca la visione di un seno nudo di una donna cioè c'erano stati forse un paio di esempi mi ricordo clara calamai ma forse era di qualche anno prima ma qui abbiamo appunto il nudo di paola nella mentre si fa una toiletta poi c'è la scena in cui girotti mostra le mutande c'è una scena in cui due donne sono a letto insomma ci sono un po di scene che entrarono e furono pesantemente osteggiati quelle che al tempo venivano definite scene osè ora al giorno d'oggi magari lasciano indifferenti ma allora colpirono moltissimo il film che i riders sono andati a riscoprire è desiderio del 1946 vi invitiamo assolutamente a farlo anche voi per questo appuntamento è tutto grazie per paolo ciao a tutti alla prossima